Con la lingua siamo capaci di distruggere, pensiamo, a tutti quelli che nel mondo sono trattati come cose e non come fratelli, perché è più importante un pezzo di terra che il legame della fratellanza. Durante la messa a casa Santa Marta, partendo dall'odierna prima lettura su Caino e Abele, Papa Francesco si è soffermato sul tema della fratellanza, nella vicenda raccontata nella Genesi, così come in tante situazioni odierne dove il sangue di tanta gente grida a Dio dal suolo, tutto è iniziato con una piccola cosa, un'invidia, una gelosia, sentimenti che coltivati in modo ossessivo crescono fino a distruggere ogni legame di fratellanza. Così cresce e cresce l'inemicizia e finisce male sempre. Io mi stacco del mio fratello, questo non è mio fratello, questo è un nemico, questo deve essere distrutto, cacciato via e così si distrugge la gente, così i nemicizi distruggono famiglie, popoli e tutto. Quel rodersi il fegato sempre ossessionato con quello. Questo è accaduto a Caino e alla fine ha fatto fuori il fratello. No, non c'è fratello, sono io soltanto, non c'è fratellanza, sono io soltanto. Questo che è successo all'inizio accade a tutti noi la possibilità. ma questo processo deve essere fermato subito, all'inizio, alla prima amarezza, fermare. L'amarezza non è cristiana, il dolore sì, l'amarezza no, il ressentimento non è cristiano. Il dolore sì, il ressentimento no. Il dolore sì, il dolore sì, l'amarezza non è cristiana. Grazie a tutti